Una famiglia. Di pelo rosso impiegato al comune, Livio giocava forte nelle notti. Ci fu un ammanco, successe uno scandalo. Nena, la moglie, mostrava alle alunne la docile potenza di ogni muscolo e nel letto di Napoli scoperse i peli lunghi e neri delle monache. Ancora si può udire il riso unanime. C'era Antonietta, quell'unica figlia. Come figure su un biroccio antico andavano lei e Paolo per le mura, mano nodosa, stretta alla diafana, e intanto si formava e si addensava la massa oscura della propria morte. Bene.